L'Alcantara fa il minimo indispensabile con due palle inattive. Il San Gregorio lotta, crea ma non recupera e cede senza segnare nell'andata di uno dei quarti di finale under 17 competizione provinciale. A questa gara 1 del sabato seguirà il ritorno a Castiglione mercoledì il 1 maggio alle ore 16 in sintetico al San Giacomo. In un doppio confronto tra primi in classifica di gironi diversi, il San Gregorio in realtà è giunto secondo del gruppo B solo per differenze reti rispetto alla Morace. Semifinale ancora non del tutto perduta, impresa ancora possibile da compiere. Come a fine gara ha dichiaratamente detto il tecnico degli Etnei Alessandro Villagrasso, in campo con Laino tra i pali dietro a Russo e Sovo esterni, Franceschini e Messina centrali. Più avanti il Rascunà, Capitan Belfiore e Piscopo. In avanti il tridente Egitto, Arcidiacono Fofanà. In blu il San Gregorio, intraprendente in avvio di gara grazie a questa imbucata di Arcidiacono per Egitto che non passa. L'Alcantara è la fase difensiva, un light motive per quasi tutti i 90 minuti, eccezione fatta per i gol che decidono il confronto. Al sesto punizione concessa in maniera ben più che generosa dall'arbitro Recidi Diecireale per questo contatto tra Russo e Imbrogiano. Punizione che batte lo stesso numero 11, ospite che non trova pronto Laino. Lo spiovente è fatale ai padroni di casa che incassano lo 0-1. Si rivede Egitto come segnale di reazione, lanciato da Rascunà, palla in mezzo ma Fofanà è lontano dallo specchio della porta. Tutto maledettamente difficile da un lato, tutto all'opposto dall'altro. Altra punizione abbastanza contestabile, Sove anticipa di netto Costanzo. Ma così è, batte vecchio, Laino prova a salvarla due volte ma in vano, Lucca la piazza dentro ed è lo 0-2 per gli ospiti. E allora, maniche rimboccate per Arcidiacono, che allunga però troppo su Fofanà, il quale poi ha una grande chance per accorciare le distanze quando dalla capitana e dal centravanti riceve un cross ma non lo trasforma al pari di Rascunà. Insomma, l'assedio è scattato. Manitta su sviluppi di altro corner esce su Arcidiacono, suggerito da Rascunà. Quindi Belfiore su punizione non raggiungerà le Sove e Fofanà allo scadere del primo tempo. Riprese in fotocopia, attacchi incessanti da parte del San Gregorio per andare almeno a Castiglione con un passivo meno pesante. Rascunà si insinua nel reticolato delle maglie rosse. Belfiore all'idea giusta, forse meno Egitto, che conclude direttamente sul portiere. Piscopo poi da calcio d'angolo senza cattiveria colpisce debolmente e al quarto d'ora Villagrasso decide per il primo avvicendamento. Dentro Bamba, fuori Fofanà. Qualche protesta per un possibile intervento da rigore su Rascunà intorno al ventesimo, ma niente di clamoroso. Quindi punizione di Messina e ancora Rascunà nelle cronache della partita. Non però per il tabellino marcatori. Lascia Egitto a metà tempo dentro di Stefano per vivacizzare l'attacco. Subito parte uno spunto interessante puntualmente bloccato dall'Alcantara che difende di fatto con tutti gli effettivi. non concedendo spazi al neoentrato anche sugli sviluppi di rimessa laterale. E allora, soluzioni da calci da fermo, Arcidiacono sfiora la traversa e da corner, ancora Rascunà, sottoporta. Manca la girata risolutiva. Ultimi cambi, dentro Keita, fuori Russo, più avanti, cioè a ridosso della mezz'ora, spazio Abutto e Gangemi, al posto di Messina e Sowwe. Ultimi assalti di casa, Bamba in rovesciata per Keita, che successivamente ha un'altra palla a gol rilevante a otto dalla fine. Colpo di testa e Manitta fa il miracolo mantenendo la porta inviolata. Nel conto entra anche un altro, tra i tanti che ci hanno provato quest'oggi, Franceschini, che su corner la manca di un soffio. In sintesi, così, San Gregorio Alcantara, 0 a 2. Sono stati episodi a generare risultato, onore all'avversario che ha vinto sicuramente, però se vado a guardare la prestazione ho tanto su cui lavorare per la gara di ritorno. Noi arriviamo alla prima esperienza a questa gara, ad un traguardo così importante. Ci sono società attrezzate da anni, per noi già questo è un grandissimo risultato. Attenzione, non abbasso la testa e non sto armando bandiera bianca. Andiamo a Castiglione per giocarcela, come ce la siamo giocata qui. Non abbiamo assolutamente sfigurato, siamo stati condannati da due calci piazzati. Bravi loro, complimenti a loro, ma i ragazzi hanno fatto la loro prestazione anche importante. Ho, diciamo, un buon motivo per andare sereno sia a casa che a Castiglione. Ci abbiamo provato, ma non abbiamo messo tutto quello che avevamo. E' andata così. Cosa si poteva fare di più? Dovevamo mettere più grinda, più passione, più tutto. E ora, in vista del ritorno? Ci prepariamo al meglio e cerchiamo di fare il nostro meglio. Cerchiamo di ribattare il risultato. Abbiamo giocato tutto il secondo tempo, ma non siamo riusciti a trovare la via del gol. Ci prepariamo al meglio per questa gara, con l'intento di andare a ribattare la partita a Castiglione. I ragazzi hanno fatto di tutto per rimetterle in piedi. Purtroppo il pallone a volte ci riserva anche questi risultati così un pochettino bugiardi. Cosa si poteva fare di più? Si poteva... Tecnicamente questo lo sa il mister, lo dirà sicuramente ai ragazzi. Forse siamo stati un po' all'inizio, i ragazzi erano un po' troppo così timorosi, hanno sentito molto la partita. Tutto sommato però una stagione da ricordare. Sì, diciamo che per noi questo era il primo anno, l'anno zero, anzi a San Gregorio. Si riprendeva dopo tanti anni quello che era stato il passato del settore giovanile a San Gregorio. E quindi siamo veramente felici per quello che è stato fatto, soprattutto dallo staff tecnico, in primis dal mister Alessandro, che ha lavorato con uno staff d'eccellenza ed è stato coaduato veramente bene anche dai nostri dirigenti.